Ah, ragazzi miei, Xur, questa settimana, dopo le risate che si sono fatti su Metal Company, di cui vedremo sicuramente un video a breve, vero ragazzi, sicuro, siamo sull'ultima città, in torre, all'hangar, e niente, solito posto, raga, scusate, sono un po' stunnato perché sono un po' stunnato. Vi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate link a Instant Gaming, punto scammativo giveaway, con quello di gennaio, che scade tra 19 giorni, mi raccomando partecipate, quello di dicembre l'ha vinto One Shot, che si è beccato Cyberpunk, e poi su Instant Gaming, come sempre, trovate tutti i giochi scontati, le carte per la Play, Xbox, eccetera, eccetera, mi raccomando, scioppate, 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 scioppate. Comunque, Xur, questa settimana rende, Prince of Persia, sì, quello che volete, insomma, allora, abbiamo il Senza Pietà, fusione, anno 1, per fare una grossissima citazione, che è usabile, raga, è usabile, è una di quelle armi che si può tranquillamente utilizzare come secondare per fare DPS, per esempio, se non avete magari un fusione arrollato bene, e quindi fa il suo danno, lo fa, soprattutto con il Catalyst, quindi, assolutamente da avere da provare, se utilizzate, che ne so, per esempio, lanciarazzi leggendari, eccetera, eccetera, mettete questo qui nello strotto secondario e fate ancora più DPS. Ancora. No, Moreno, non ce li ho, lo tolto adesso. Bighe di Orfeo, c'era una settimana scorsa, raga, o due settimane fa, comunque, Bighe di Orfeo, vuoto, avete tre frecce con la fareda di Mebius e trappola mortale, vi ricarica la super fino al 50%, eccetera, eccetera, insomma, lo sappiamo già bene come funzionano. Il roll, è un roll un po' così, quindi, insomma, non le metterei in cima alla lista di cose da comprare, però è un'ottima esotica, soprattutto, che ne so, nell'ultimo GM, nel Cosmodo, per esempio, è pieno di mob, con le Bighe di Orfeo, lanciate frecce a stecca, per esempio. Gli M44, gli MK44 fate largo, spallata caricata è quello che vi dà, praticamente, lo scudo mentre fate la spallata, tutte quante, quindi assalto, martellante, lo scudo travolgente da vuoto, eccetera, eccetera, e vi dà anche una porzione dell'energia del corpo a corpo quando fate una kill con questa roba qui, e con un buon roll, 25 di resilienza, 14 di forza, la via di mezzo, e poi ci sono le ali della Sagra Alba, che in realtà è una esotica che hanno baffato un pochino, cambiandola, che però non è che abbia trovato tantissimo spazio, un po' come prima, eh, mirare a mezzare si sospende per breve tempo in volo, riducendo il sussulto da colpi ricevuti, e fornendo resistenza ai danni, i colpi dell'arma ne estendono la durata, i colpi di grazia effettuati con l'arma ricaricano le due armi solari delle riserve. niente di che, ok, quindi tra queste sicuramente il senso di pietà è quelle che prenderei sicuramente se non ce l'avete già, e le bighe, solito discorso. Per le leggendarie, abbiamo la velocità di fuga, con rilevatore di minaccia e condensatore elementale, questo no, l'afflusso cromato, condipendente ardenina e bersaglio mobile, variabile stocastica, con assassino ambizioso e estrazione celere, peccato, questa qui per un periodo io l'ho usata, mi sembra forse quando uscì l'arco 3.0, forse, non è male, però è una 900, però c'ha dei roll un po' così, il senza rimorso con incandescente, se volete un fucile a pompa, ma non è questo il caso, l'acqua e filo con 3 metri fenisia, e la cattabuia, con rilevatore di minaccia e caricatore assassino, niente, leggendari niente, poi abbiamo il falco lunare con impugnatura a bruciapelo, peggio come sento, però abbiamo il set crepuscolare Yuga, che questo qui era il vecchio set del protocollo, su Marte, questo set è figo, guarda il petto della strega, io questo qui se non sbaglio l'ho risbloccato di recente, proprio perché mi piaceva, è bello, il set di sto coso qui è figo, per il trasmog, se volete fare i vostri land game di test, insomma, braccia, sono con la strega, queste sono le braccia, con forza, mobilità e recupero, le lasciate lì dove sono, resilienza 20, intelletto 15, forza 10, meh, intelletto 30 addirittura sul casco, potete prenderlo e mettetevelo in saccoccia, eventualmente, se magari Bungie cambia le statistiche, ma dubito fortemente che succederà, comunque, gli altri PG, allora, ovviamente vanno lo stesso discorso per quanto riguarda il trasmog, se volete prenderlo solo per quello, anche gli altri PG hanno dei bei pezzi, soprattutto i petti, ok, le braccia del cacciatore hanno 24 di mobilità e 24 di disciplina, ragazzi, con recupero 6, resilienza 2, insomma, beh, la resilienza è un po' bassa, però potete recuperare con qualche altro pezzo, scegliete voi, ma questo è un buon pezzo, un buon pezzo, forza 23, un casco con 23 di intelletto, delle gambe con 20 di intelletto e un 66 di overall, ma con le statistiche tutte un po' sparpagliate, quindi no, segnatevi le gambe, scusate, le braccia del cacciatore, poi abbiamo delle braccia del titano con 20 di resilienza e 15 di intelletto e 14 di forza, un po' così, questo no, troppo spagliate le statistiche, ecco, per esempio, guardate sto casco, è bello il casco del titano, questo set, si vede poco, si vede poco, però è bello, con 16 di mobilità, 16 di recupero, 26 di intelletto, pensate, un ottimo roll, peccato che statistiche, se ste statistiche sul titano sono un po' così, 68 addirittura, se proprio volete, ve lo mettete lì, tanto vale, per le gambe vale lo stesso discorso, quindi niente, prendete le braccia del cacciatore, il, che vi avevo detto? no, niente, solo quello, questo se volete metterlo da parte, con la strega, bighe di orfeo, senza pietà, grazie a tutti,